Ok, classe. La formula quadratica. Divertitevi. Chi mi sa trovare la posizione dell'equazione X uguale a... No! 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 Dimmi che non è vero! Ma che succede? Ok, calma. Che succede? No! Ti prego! No! Parla con questo picchio! Diggielo che sono la mamma! Non guardo giù! Non guardo giù! Devo correre a casa e nascondermi! Mai, mai! No! E' forte! E' forte! E' forte! E' forte! Oh! 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 Sono calma. Oh! Oh! Dan! Oh! Oh! Sì! No! No!